l ciao ciao e gatti edizio non ho capito un cavo dai andiamo dove va il lacto pedro la radio ok prima andiamo dopo la radio è un gioco di ladri e poi sono in ladri noi sono in ladri il gioco o per apri la porta apri la porta apri la porta chi usa è chiusa posti l'uomo l'uomo portico oppi stupico per l'uomo l'uomo ok ok no ok ok no no ok 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 Così? Cosa? Lui! Mi sta male! Hai preso la bambina? Sì, sì, sì. Cos'è? Anche si straccia il sale adesso. Apri il cassetto. Stiamo con il cassetto. Chiudi. Non vi trovate. Oh. Cinque. Tre. Ok. Ok. Oh. Oh. Ah, questo papà ha detto? Oh. E non arriva più il strato corto da lui. Perché? Adesso guarda un anno e mezzo anni che non vede il strato corto. Non troppo niente. E tu puoi? Non puoi stare un po' qua, perché come sto qua? Amo, perché... Quello è il mio organe di tesarella. Sì. Sì, è quello. Si vede di incontritto. Eccomando la Updala al mondo. Manchè, допisca nella washer. Sì qualcosa è giusto. Fa lo tempo cerda di avere le sass enrollmenti. Lei ha definita la azienda formula. Quattro. La livella. Sì, è un problema. Sassi.